Ciao a tutti, oggi prepareremo il sale aromatizzato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono sale grosso, aglio senza anima, rosmarino, salvia, alloro, origano, prezzemolo e basilico. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico, la salvia e il rosmarino, il sale grosso, l'origano, l'alloro e l'aglio. E azioniamo il bimbi per un minuto. Da velocità 6 a velocità 10. Trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno e facciamolo asciugare in forno preriscaldato a 50 gradi per 25 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il sale, trasferiamolo in dei vasetti con chiusura ermetica. Sale aromatizzato si conserva in un luogo asciutto per un anno, ideale per insaporire carne, pesce e verdure. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!